Nel giudizio per direttissima previsto per oggi dovranno rispondere dei reati di resistenza pubblico ufficiale e truffa aggravata in concorso ai danni di una signora anziana, i due giovani campani appena ventenni e senza precedenti denunciati anche a piede libero per un'altra truffa aggravata tentata poco prima di quella riuscita sempre ai danni di un'anziana pescarese. Ad arrestarli in flagranza di reato nella giornata di ieri ci ha pensato la polizia come spiegato da Gianluca Di Frischia capo della squadra mobile di Pescara. Ieri nell'ambito dei controlli disposti anti rapine e anti truffa dal questore la squadra mobile è riuscita a intercettare questi due giovanissimi in trasferta che nella mattina di ieri avevano tentato di compiere una truffa partendo da una telefonata e poi presentandosi anche di persona a casa di una signora oltre 80enne che non è riuscita grazie all'intervento della nipote che ha capito cosa sta succedendo e ha allertato subito i soccorsi. Invece un'altra che sono riusciti a consumare ai danni di un'altra signora anziana convincendola a farsi consegnare un sacchetto pieno di oggetti preziosi e ricordi di famiglia fingendo di essere il nipote in difficoltà. Le ricerche che erano partite subito dopo la prima segnazione hanno permesso di rintracciare la macchina che si è andata subito ad una fuga rocambolesca speronando anche la pattuglia che li stava inseguendo che fortunatamente è riuscita a fermarli e a recuperare anche il bottino che abbiamo restituito alla signora. I due giovani arrestati in trasferta dalla campagna all'Abruzzo per compiere i reati di cui dovranno rispondere davanti al giudice non potranno rientrare nel comune di Pescara per i prossimi tre anni così come sancito dal foglio di via firmato questa mattina dal questore. Le modalità che si riscontrano più di frequente anche nel caso di ieri è quella della telefonata preventiva che tende sia a convincere la vittima a consegnare denaro o preziosi sia a farla rimanere sola in casa qualora ci sia la presenza di familiari che quindi possono magari intuire che non si tratta di una reale necessità magari di un familiare perché spesso le chiamate riguardano proprio una necessità è un'urgenza di un familiare spesso anche di salute per cui destano preoccupazione poi nella vittima che in quel momento si può far convincere. Cosa vi sentite di dire agli anziani che in questo caso magari vi stanno anche ascoltando stanno ascoltando la sua intervista? Prima di tutto tengo di dire di non vergognarsi perché abbiamo riscontrato che spesso le vittime subiscono delle conseguenze che vanno ben oltre il danno economico quindi prima di tutto non si devono vergognare ma soprattutto cercate per quanto possibile di capire con chi state parlando perché se è una persona della vostra famiglia cercate di ricontattarla immediatamente prima di aprire la porta o prima di consegnare qualsiasi cosa a un amministraneo. E la seconda cosa non riguarda il caso di ieri ma le forze dell'ordine non verranno mai alla vostra porta a chiedervi di consegnare denaro o beni preziosi. Se avete dubbi su delle persone che si presentano come forze dell'ordine contattate il 113 o il 112 e chiedete se una pattuglia si è recata presso quell'indirizzo.